Grazie a tutti. Il comune affida la gestione dei bocciodromi di Viale Galilei al Cogliano Santa Lucia Prato Social Club. Va ai rossi di Santa Trinita la vittoria del primo torneo dei rioni di calcio decisivi i tiri dal dischetto. Una buona serata dalla nostra redazione. Bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Si è riunito questa mattina in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Dopo i recenti fatti di sangue e l'incendio in un'azienda, sono state prese alcune decisioni per cercare di arginare i reati. Nuove telecamere di videosorveglianza e intensificazione dei controlli delle forze dell'Ordine anche con l'ausilio della Polizia Municipale. Sono le decisioni prese dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito stamattina per un focus sulla sicurezza in città, anche in relazione alla recente aggressione con accoltelamento di un cittadino cinese e all'incendio in un'azienda al Macrolotto 2. Alla riunione preseduta dal prefetto Laiacona, oltre ai rappresentanti delle forze dell'Ordine, hanno partecipato il presidente della provincia Simone Calamai e la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. Nel corso dell'incontro è stata condivisa la necessità di mettere in campo ulteriori azioni per innalzare il livello di prevenzione per un rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica. Bugetti è anticipato che suona in corso di realizzazione alcune progettualità per l'installazione di altri impianti di videosorveglianza. Il prefetto, nell'assicurare che continuerà ad essere massimo l'impegno sul piano del contrasto ad ogni forma di legalità e di criminalità, ha disposto un'intensificazione dei controlli del territorio da parte delle forze di polizia con l'ausilio della Polizia Municipale. Si è concluso intorno a mezzogiorno l'intervento di disinfestazione straordinario contro la zanzara tigre a seguito dell'accertamento di un caso di dengue a oste. Rimangono in vigore le raccomandazioni già diffuse ieri riguardo a frutta e verdura che non siano state protette con teli di plastica. In questi casi è bene aspettare almeno 15 giorni prima di consumare gli alimenti e lavarli molto bene. L'unica limitazione ancora in vigore fino a domani mattina riguarda l'argine del torrente Funandola dove il Comune sconsiglia fortemente di portare i cani a passeggiare a causa del trattamento che ha interessato l'area vicino al corso d'acqua. Intanto sta meglio l'uomo di Oste che aveva contratto l'albovirosi da dengue durante un viaggio all'estero ed è in fase di dimissioni dall'ospedale. Parliamo adesso della metrotranvia Prato-Peretola. Oggi in regione è stato fatto il punto sull'opera. Al centro dell'incontro i possibili tracciati. La partenza sarà dalla stazione centrale. Si è riunito in regione il collegio di vigilanza per fare il punto sulla tranvia Prato-Peretola che permetterà una mobilità più veloce e sostenibile tra Firenze e la nostra città. In particolare l'incontro si è concentrato sugli studi per il lotto funzionale Prato-Campi-Bisenzio che insieme all'arresto dell'opera concorrerà al bando del Ministero dei Trasporti previsto in autunno. Con il presidente della regione, Eugenio Gianni, tecnici e amministratori pubblici si sono confrontati sui tracciati per individuare le soluzioni migliori che coniughino tempi brevi di percorrenza e la maggiore utenza possibile. Il punto di partenza sarà la stazione centrale di Prato. È la dimostrazione che quelle annunciate in campagna elettorale non sono state vane promesse. Ci siamo assunti un impegno e lo stiamo portando avanti passo dopo passo, ha dichiarato la sindaca e l'area Bugetti. Sono progetti importanti che richiedono impegno e risorse per diventare realtà. Ne siamo consapevoli e pronti a fare la nostra parte affinché si possa passare il prima possibile dalla carta al cantiere aggiunto. Per la sindaca l'opera potrà rappresentare una svolta importante per la mobilità metropolitana e per la nostra città perché collegherà Prato a Firenze sia attraverso la ferrovia che il metrotram in un'interconnessione virtuosa che permetterà a tantissimi cittadini di lasciare l'auto a casa. Sarà un grande servizio per la città e un contributo decisivo alla mobilità sostenibile. Noi ci crediamo e andiamo avanti a concluso Bugetti. È approdata oggi in Consiglio Comunale per l'approvazione la proposta di composizione delle commissioni consigliari. L'elezione del Presidente e Vicepresidente di ciascuna commissione invece sarà effettuata nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Tinagli. Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Asla Toscana Centro, Simone Magazzini, ha fatto il punto della situazione sul pronto soccorso. Il caldo per ora non ha aumentato gli accessi in maniera significativa ma sono in aumento i ricoveri tra gli over 80. Il caldo ancora non sta incidendo in maniera significativa sugli accessi al pronto soccorso che sono cresciuti del 5% rispetto a due settimane fa. Anche se c'è una leve tendenza all'aumento dei ricoveri negli over 80 e anche casi Covid sono in crescita. Il direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell'Asla Toscana Centro, Simone Magazzini, ha fatto il punto della situazione. Abbiamo qualche dato, per ora abbastanza tranquillizzante. L'incremento di accessi non supera il 5-6% rispetto al periodo immediatamente precedente e abbiamo notato, stiamo notando, semmai un piccolo incremento dei ricoveri nelle fasce d'età più anziane, a volte da ricondurre anche all'esposizione al caldo. Però credo che questo fenomeno, se il caldo continua, lo vedremo di più dopo un po' di tempo perché l'esposizione al caldo produce effetti nei pazienti e negli anziani dopo un po' più di tempo. Stiamo vedendo, purtroppo, qualche nuovo caso di Covid che ci impegna nel percorso assistenziale protetto ma si tratta comunque di fenomeni per ora sotto controllo. Il pronto soccorso continua a rimanere un presidio molto utilizzato anche se in media solo il 10% circa di chi accede ha bisogno di cure urgenti. Per questo magazzino invita la popolazione ad interfacciarsi col medico curante prima dell'accesso in ospedale. La popolazione che fa riferimento al nostro servizio lo fa per emergenze vere in una percentuale abbastanza piccola per fortuna i casi davvero drammatici non arrivano al 10% come casistica. Non è detto che tutti gli altri non siano appropriati certo dentro ci sono le persone con piccola traumatologia con problematiche che comunque richiedono prestazioni di pronto soccorso e poi ci sono persone che bypassano la rete territoriale pensando di trovare un servizio più appropriato o più rapido in pronto soccorso. In realtà c'è una rete territoriale che è perfettamente attiva e che può essere consultata. Il medico di medicina generale e la continuità assistenziale sono a disposizione dei cittadini quindi ha senso che siano consultati anzi con l'arrivo del caldo soprattutto nella popolazione anziana non si deve sottovalutare i disturbi ecco io non mi sentirei di dire non venite troppo al pronto soccorso perché siamo intasati non siamo in queste condizioni ed è vero che se una persona fragile ha un disturbo deve essere valutata però c'è una rete territoriale che è lì per quello ed è giusto che i cittadini la utilizzino. Quanto alla carenza di medici per il pronto soccorso l'ASL Toscana Centro ha stipulato una convenzione con l'azienda universitaria di Careggi per avere supporto di personale. Questa è la modalità con cui si spera di mantenere i numeri necessari per la sicurezza della cura dei pazienti perché in pronto soccorso sotto certi numeri non si può scendere e per ora ci stiamo riuscendo con questo sistema forse nel futuro dovremo se continua a essere così poco ambito il ruolo di medico d'urgenza forse servirà a studiarci soluzioni più complesse però per ora la strada sembra essere quella. L'assessore alle politiche sociali e all'immigrazione della Comune di Prato Sandro Malucchi è il nuovo presidente della Società della Salute Aria Pratese è stato letto all'unanimità da tutti i sette comuni della provincia pratese rappresentati da sindaci e assessori al sociale riuniti stamani in assemblea. Malucchi succede a Simone Faggi I temi della fragilità e della marginalità della disabilità e della non autosufficienza possono trovare il ristoro e soluzioni unendo le forze, i finanziamenti, le competenze e la professionalità dei sette comuni della zona distretto e dell'Asla Toscana Centro ha detto Malucchi. La Società della Salute continuerà a mettere al centro della propria azione di garanzia e assistenza socio-sanitaria i cittadini della provincia secondo le necessità che emergono di volta in volta da ogni territorio, ha aggiunto il neopresidente. Il consigliare regionale del PD Marco Martini è stato designato componente della Commissione Sviluppo Economico Sarà un impegno importante di cui avverto tutta la responsabilità anche perché non sarà facile sostituire l'area Bugetti nel lavoro di Commissione come in Consiglio così l'ex sindaco di Poggia Caiano Martini ha confermato l'impegno ad ascoltare collaborare e informare la comunità pratese su tutte le iniziative più idonee a rafforzare l'obiettivo di piena integrazione del distretto nelle politiche complessive di sviluppo eco e sostenibile della Toscana. La gestione dei bocciodromi di Viale Galilei è stata affidata dal Comune al Coiano Santa Lucia Prato Social Club nei prossimi mesi saranno programmate attività sportive e sociali. L'amministrazione comunale ha deciso di concedere in gestione per un anno attraverso l'affidamento diretto i due bocciodromi di Viale Galilei alla società sportiva Coiano Santa Lucia Prato Social Club L'obiettivo del progetto è favorire una connessione tra gli associati e delle due realtà creando le condizioni per uno scambio di esperienze e relazioni intergenerazionali I due bocciodromi, oltre ad essere spazi per la pratica sportiva diventeranno luoghi di eventi culturali e di aggregazione offrendo ed ampliando le opportunità di socializzazione per il quartiere Il progetto ha preso il via ieri con una serata conviviale di incontro tra la dirigenza del Coiano Santa Lucia una rappresentanza degli atleti e gruppi che storicamente hanno gestito gli impianti È un bel lavoro di squadra quando si uniscono le forze e si fa rete si riescono ad ottenere obiettivi importanti questo vuol dire mantenere un luogo aperto, vivo e quindi mantenerlo curato e questi sono gli obiettivi secondo me più importanti a cui un'amministrazione deve guardare Il progetto è proprio quello di rendere sempre più fruibili e anche sfruttare tutte le potenzialità che questi due centri rappresentano per la nostra città e in particolar modo per questo territorio sono due centri storici e noi vorremmo provare a creare le condizioni perché si creino anche i presupposti per uno scambio fra generazioni Il progetto sarà coordinato da Lorenzo Giorgi membro del direttivo della società che si avvarà del supporto di alcuni soggetti della vecchia gestione Questo luogo va sfruttato è un luogo di aggregazione l'amministrazione comunale si è dimostrata subito disponibile e siamo all'inaugurazione Qui si sta bene Un posto in cui si ritrova gli amici anche di una volta e praticamente si passa il tempo è una funzione sociale e anche per le persone anziane è importante Domani 19 luglio ricorre il 67esimo anniversario della morte di Curzio Malaparte Come da tradizione l'amministrazione comunale deporrà una corona di alloro presso il mausoleo di Spazzavento dove lo stesso Malaparte volle essere sepolto Alle 9 a Cerreto è previsto il ritrovo per poi raggiungere a piedi il monumento Alle 21.15 alla Gualchiera di Coiano invece viene presentato il libro Malaparte e la Russia curato da Carla Maria Giacobbe segretaria dell'archivio Malaparte presso la biblioteca di Via Senato a Milano Dopo sette anni di gestione Daniele Grigio lascia il Teatro Borsi La struttura è chiusa da oltre un anno e la sua riapertura comporterebbe un impegno troppo oneroso per l'associazione Prato Teatro di Grigio Io sono orgogliosissimo di questi sette anni è stata una sfida devo ringraziare la proprietà il seminario Vescovile che mi ha dato la fiducia mi ha concesso lo spazio senza mai farmi pagare l'affitto è stata una sfida, una cavalcata entusiasmante Finisce la gestione di Daniele Grigio al Teatro Borsi in Via San Fabiano il presidente dell'associazione Prato Teatro ha deciso di interrompere il contratto di comodato d'uso dell'immobile sottoscritto sette anni fa con il proprietario il seminario Vescovile dal 31 marzo 2023 il teatro è chiuso a seguito di una ispezione dei vigili del fuoco per mettere a norma gli ambienti occorre così un progetto complessivo di ristrutturazione un impegno troppo oneroso per l'associazione di Grigio compresa la possibilità di accollarsi il super bonus edilizio APS Prato Teatro è un'associazione non è una multinazionale non abbiamo risorse e quindi non abbiamo potuto abbiamo dovuto rinunciare perché non sappiamo quanto sarebbe durato insomma non avevamo le risorse per traghettare il Borsi dalla chiusura alla riapertura Grigio però non molla il suo amore per il teatro la danza e la musica prosegue con altri progetti riproporremo i nostri laboratori presso la sede di questa sala bellissima della scuola la Gang del Bosco in Viale Galilei 31 è un inverno tutta la settimana coperta da corsi di danza di danza irlandese di tango di teatro danza e in più l'altra novità è che con la scusa del libro che ho pubblicato a marzo Memorie di un attore senza potere contrattuale ho ristabilito i contatti con la mia città con Padova e stiamo discutendo proprio in questi giorni l'eventualità di un laboratorio per non professionisti a Padova grazie veramente a tutti alla proprietà al comune agli collaboratori agli artisti ai fornitori grazie apriamo adesso la pagina sportiva iniziamo dal calcio un nuovo arrivo per il Prato Calcio la società Bianca Azzurra ha chiuso per il difensore Matteucci ex Sestra e Levante dove ha prodato a fine dello scorso novembre e con cui ha totalizzato quattordici presenze cresciuto nelle giovanili dell'Empoli arrivando fino all'under 19 ha poi giocato nel Ponte d'Era e a Mantua Matteucci 24 anni può vantare quasi 100 presenze in serie C si è decisa ai calci di regore la prima edizione del torneo dei rioni di calcio la vittoria è andata ai rossi di Santa Trinita che hanno battuto gli azzurri sono stati i rossi di Santa Trinita ad aggiudicarsi la prima edizione del torneo dei rioni di calcio la squadra rossa ha superato nella finalissima gli azzurri di Santa Maria i calci di rigore i tempi regolamentari erano terminati sul risultato di uno a uno pubblico numeroso la Zenit è pieno ringraziamo Cammelli ringraziamo la Zenit per averci ospitato e niente una grande festa è un bel calcio nel primo tempo il vantaggio degli azzurri propiziato da un calcio di rigore che Servillo è stato bravo a trasformare con freddezza superando il portiere Orrea la reazione dei rossi è stata affurente Mearini su punizione ha colpito la traversa mentre il talentuoso Ruobi ha concesso Bis con questa conclusione dalla distanza le preghiere a San Montante per salvare il portiere battagliero i legni fanno parte della porta ma non sono gol sicché la lotteria dei rigori questa volta ci ha dato merito un gruppo di ragazzi meravigliosi che veramente mi hanno fatto divertire e penso abbiano fatto divertire anche il pubblico nella ripresa il canofaggio della partita non è cambiato i rossi a fare la gara gli azzurri più guardinghi pronti a difendersi e ripartire ancora un palo il terzo della serata sulla strada dei rossi con il portiere battagliero che in qualche modo riesce a salvarsi sembra una partita stregata e invece Lupetti è riuscito a trovare la giocata vincente regalando la rete dell'1-1 finale con qualche fiammata e poco più e quindi prima edizione del torneo dei rioni che si decide ai calci di rigore precisi come i orologi svizzeri i rossi 4 su 4 dal dischetto mentre gli azzurri si fermano ad una realizzazione il tira dei rigori non ci ha premiato però insomma siamo andati meritatamente in vantaggio poi i rossi sono cresciuti hanno avuto diverse occasioni sottili da fuori ci hanno messo ci hanno un po' chiuso sulla nostra tre quarti e poi paradossalmente dopo il gol del pareggio abbiamo avuto la grande occasione a poco dalla fine per trovare il 2-1 però insomma alla fine onore ai rossi hanno vinto è festa rossa tra i cori di giubilo del rione Santa Trinita nella categoria Juniores invece si sono imposti verdi che hanno superato i gialli per 3-1 è stata una vera festa di calci manca mostrino una squadra che sia competitiva per questa grande competizione cerchiamo di metterci tutte le nostre forze e tutti i nostri impegni intanto il direttore sportivo Marco Magni sta lavorando per la costruzione della nuova squadra sarà rivoluzione della passata stagione saranno confermati soltanto il portiere Brunelli centrocampisti Rosi Saccenti e Quassi e gli attaccanti Falteri e Ciravegna sul quale però sta facendo pressing il Figline già ufficializzati anche alcuni nuovi acquisti come il difensore Tempestini arrivato l'Alsigna e l'attaccante Vezi dallo Scandici siamo ai dettagli per l'arrivo del centrocampista Gemignani ex Prato che porterà esperienza e tanta classe nella zona nevagica del campo dei Lanieri tra una gente sicuramente dovrà avere tanto cuore e tanta grinta perché il campionato è un campionato difficile per noi è una novità quindi è un mondo tutto nuovo però speriamo ad arrivare all'obiettivo che è uno e uno solo e quello di rimanere in categoria La società Amaranto sta anche cercando quote di alto profilo da integrare nella rosa in quest'ottica va inquadrato l'arrivo del giovane talentuoso centrocampista da classe 2007 Matteo Toci fresco campione d'Italia allievi con l'Africo La Zenit perché innanzitutto è la prima volta che va in D e questa è già una cosa comunque che fa gola e soprattutto mi hanno cercato e mi hanno voluto molto loro e mi hanno fatto subito sentire a casa come se fossi a casa Ti descrivi che giocatore sei un centrocampista che possiamo definire come? Un centrocampista che sa gestire bene il pallone usa entrambi i piedi è molto bravo negli inserimenti e anche diciamo molto buono nella fase offensiva del gioco Sarà una Zenit Ye Ye quella che starà in atti di partenza del prossimo campionato di Serie D Passiamo adesso al judo ancora un risultato di prestigio per la giovane judoca Elena Guarducci il 14 luglio in Ungheria si è svolta la European Cup Junior una competizione di judo internazionale che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo tra i protagonisti di questo prestigioso evento la giovane judoca pratese Elena Guarducci che ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo scalando la classifica mondiale fino al 53esimo posto Guarducci tesserata per la Chiama settimo è allenata a Prato presso la Kyushin Ryu si è arresa soltanto davanti alla francese Annie che poi ha vinto la competizione nel 2024 la judoca pratese ha già ottenuto il terzo posto all'European Cup Junior a Sarajevo e al campionato italiano Juniors a 1 ed è il momento dell'agenda vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni domani venerdì 19 luglio dalle 20 in piazza Mendola Oste Sagra del Cocomero 31esima edizione della manifestazione in programma la distribuzione di Cocomero cena di pesce e intrattenimento musicale al campo sportivo Martini di Poggia Caiano finale di calcio del torneo dei rioni alle 20 e 15 finale per il terzo e il quarto posto alle 21 e 30 per il primo e secondo posto prosegue la festa della Madonna del Carmelo a Tobiana alle 21 nello spazio all'aperto accanto alla chiesa serata con il gruppo organizzazioni di volontariato sezione di Prato associazione nazionale polizia di stato e protezione civile mostra di mezzi e divise d'epoca della polizia di stato video attività del gruppo incontro con gli uomini della scorta di Caponnetto e Falcone alle 21 e 30 la rocca di Carmignano nell'ambito dell'estate a Carmignano concerto di Italia cantautrice e protagonista dell'edizione 2022 di X Factor infine alle 21 e 45 al castello dell'imperatore proiezioni del film Cattiveria a domicilio e con l'agenda è tutto vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio LAM restate poi con noi per le anticipazioni dei programmi della serata l'informazione di TV Prato torna domani alle 13 e 45 con il Tg del giorno grazie per averci seguito e arrivederci era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui mi definivano abile scaltro infallibile e anche se non ce l'ho fatta ci riproverò potete stare tranquilli voi con PratoPol non è un caso che siano professionisti della sicurezza danzare ed altri insetti sono il tuo problema? la saetta è la soluzione nella tua abitazione nella tua azienda nella tua attività vivi tranquillo l'estate prova anche i nostri nuovi interventi bio ed eco-friendly dal 1971 sai che puoi fidarti di noi la saetta disinfestazioni buonasera ben ritrovati dalla sala meteo dell'amma ancora condizione di alta pressione nei prossimi giorni soprattutto sul centro-sud d'Italia tuttavia nel fine settimana una perturbazione atlantica più attiva sull'Europa centrale porterà aria più fresca e instabile sul nord della nostra penisola dove sono attesi temporali anche forti nella giornata di domenica in parte temporali interesseranno anche le zone appenniniche il medio-basso versante adriatico e caleranno un po' le temperature riportandosi su valori un po' più consoni per il periodo andiamo a vedere la previsione per la giornata di domani venerdì avremo qualche cadenzamento di tipo basso al mattino sul Val d'Arno inferiore costa settentrionale ma è rapido dissolvimento aumenteranno un po' domattina le temperature minime ovunque sopra i 20 gradi centigradi in pianura aumenteranno un po' anche i tassi di umidità e quindi anche la sensazione di afa sarà un po' più intensa nella giornata di domani nel pomeriggio qualche adenzamento in più sulla dorsale a penninica ma con basso rischio di precipitazioni continuerà a splendere il sole sul resto della Toscana in particolare lungo la costa eventi fino a moderati di maestrale nel pomeriggio con mari poco mossi o localmente mossi a largo e soprattutto in maremma le massime di domani anche di 37-40 gradi soprattutto nell'interno del Grossetano sul Val d'Arno superiore a Retino anche 37-38 gradi comunque anche sulla piana di Firenze Prato e Pistoia nel fine settimana infine ancora prevalentemente soleggiato qualche adenzamento in più nel pomeriggio sabato su Apuane Appennino settentrionale dove non si esclude qualche breve locale più basco non particolarmente significativo temperatura in calo di 3 gradi circa rispetto alla giornata di domani venerdì fino a 35-37 gradi le massime nell'interno non oltre i 30 gradi sulla costa domenica un po' più instabile nel pomeriggio abbiamo indicato appunto dei rovesci e dei temporali alternate a stiarite soprattutto sulla dorsale Appenninica ma anche tra l'Aretino e il Senese continuerà a splendere il sole anche nel pomeriggio sulla costa temperature in ulteriore lieve calo massime fino a 33-36 gradi 28-30 gradi lungo la costa con venti da sud-ovest moderati a nord dell'Elba deboli altrove è tutto grazie per l'attenzione una buona serata a Grazie a tutti.